Don Luigi Orione, fondatore della piccola opera della Divina Provvidenza, spirava santamente a Sanremo in una casa di carità della sua congregazione la sia del 12 marzo 1950, invocando per tre volte il nome Santissimo di Gesù. Aveva 68 anni. Nel lasciare Tortona dopo gravissima malattia, Don Orione aveva protestato, però non è tra le palme che io voglio morire, ma tra i poveri che sono Gesù Cristo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.